Allora il dottor Mastella. Io vi ringrazio per l'invito e voglio cercare in tempi strettissimi di essere chiaro sia per quello che riguarda le cose fatte che le cose da fare. Sono felicissimo che ci sia il vicepresidente perché bisogna essere estremamente chiari, estremamente chiari. In questa situazione di tragedia che viviamo in tutta Italia c'è ovviamente una colpa diretta da parte di chi lo ha fatto, ma anche una colpa indiretta, e cioè da parte nostra che a volte non è meno grave, per non aver chiarito le cose che dovevano essere chiarite e dovevano essere controllate. Io devo applicare l'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 41. Adesso il vero problema è che io vivo in uno stato che non fa nell'uno e nell'altro e le colpe sono di chi ha fatto i fatti suoi da un lato e di chi non vuole vedere e continua a non vedere dall'altro, quindi ci siamo noi. Bisogna essere molto chiari su questo. E adesso lo dimostro. Allora, io sono quello che, come Assisi Palazzo Marichiano, si è trovato a sconvolta la vita, perché io fino al 2006 non ne sapevo niente. Io sono nato tossicologo, facevo il primario di laboratorio. O Pascale, fino al 2006, diciamo a marzo 2006, che viene donato scelta al Pascale, leggiamo tutti lo morga, e comincia a prendere coscienza che c'è un problema serio, perché io stavo chiuso dentro, e più che vedere che si abbassava l'età di insorgenza dei pazienti, è che quando io sono entrato nel 1981 al Pascale, il tumore della mammella era relegato alle sessantenni, va bene? Mia nonna ha avuto 83 anni, adesso il Pascale ha dovuto mettere una lista d'attesa a parte per le donne sotto i 40 anni. Abbiamo 1200 casi in due anni di tumore della mammella, e oggi come oggi è inutile parlare e spendere più soldi per gli screening, perché il dato nazionale dice che una donna su sette cercando prima dei 40 anni, quindi spendere soldi inutilmente, il dato campano ne dice due o tre. Quindi posto questo, io ho cominciato a rendermi conto di che c'è un problema grosso, che era all'esterno dell'istituto, di cui l'istituto era il terminale, e quindi ho cominciato a girare, quindi io sono quello che ha fatto insieme a De Vico, le cose eccetera, il professore come l'ha fatto le denunce insieme a De Vico per fare la questione Bagnoli, insieme a Carlo Iannelli, l'assistituto di Bagnoli, siamo noi, così come io di fatto non sono più primario per la questione di pianura, per la questione di pianura per un semplice motivo, che adesso è stato citato, perché io ho fatto in esso di casualità a Cetra, l'unico processo che sta portando a qualche condanna si chiama processo Carosello, che dopo 12 anni, 2002, la libera sta portando a termine, ed è stato fatto con le analisi fatte di tasca mia, che di ossina sul terreno, di ossina nei pastori, di ossina nelle pecore, di ossina individuale nei pastori, adesso sta consentendo di arrivare a un probabile messo di causa vita e quindi ad una responsabilità. Lo stesso problema se poteva fare, e se poteva eventualmente fare, va a passare il cuore mio, quando è uscito il problema di pianura, perché pianura è stato spangato per altri 40 metri là sotto e pianura, è una mischia francesca di rifiuti tossici e di rifiuti urbani. E questa mischia francesca di rifiuti tossici e di rifiuti urbani ha, essendo io perito di parte, dimostrato da parte dei periti, ci sta di ossina di otto te, in abbondanza. Ripeto, la di ossina non è il tossico peggiore, è soltanto il tossico di riferimento, perché quello ha più lungo tempo di dimezzamento, secondo me fa ancora poter andare lì, date le concentrazioni, figurati, abbiamo ancora comunque tempo, il problema è che se io faccio il biomonitoraggio poi alle persone di pianura individuale, va bene, comincia a uscire qualche cosa. Allora, di ossina nel terreno, di ossina le cose, di ossina i famosi sarcomi nello stesso palazzo, eccetera, in quelle persone si fa pure il profilo, perché se può pure fare, c'è il messo di causalità. Il problema qual è? E qual era? È stato appena citato, là non hanno pensato i caporristi, a pianura, non ci stanno le carte firmate dai pelini che hanno buttato i tossici a pianura, quindi io sono stato fermato, punto. Poi è stato citato la questione di Amianto, cioè chi è che ha citato Ciannella, Ciannella Medicoiste del Monaldi, e queste cose ce le dobbiamo dire in faccia, almeno tra di noi, di sinistra, va bene, chi è che ha attaccato violentamente Ciannella e ha distrutto il lavoro di Ciannella del Monaldi? Il responsabile del registro Meso de Riova, dicendo che il dottore Ciannella rischiava di dire un'enorme manca di cazzate. Il problema è che il responsabile del registro di umore di Meso de Riova, persona di altissimo livello, valentissimo, va bene, è una persona che contemporaneamente ha fatto il direttore tecnico dell'ARPA. Allora, questo è un chiarissimo conflitto di interesse. Allora, se io sono il direttore tecnico dell'ARPA e si dice ufficialmente che la Campania ha lo 0,2% di problema amianto ambientale, poi è un problema lavorativo, e come si permette di dire Ciannella che noi abbiamo un problema per il Meso de Riova, si nega di vedere la realtà. E questo conflitto di interesse. Questo è il mattino di oggi. Questo è il mattino, non il 2000, del 3000, del 2005, del 1998, è il mattino di oggi. Oggi! Per cui c'è il problema oggi! Perché il problema è aumentato in quanto teniamo l'incendio edilizio per le case fino al 2005. quindi in questo momento stiamo tutto quanto cercando di fare qualcosa di recuperare le case. Va bene? E quindi quando ci sta l'amianto, l'agente trova l'amianto e che fa? Lo smantisce legalmente, costa direttivo. E quindi adesso il Comune di Napoli oggi si trova 25 discariche abusive di amianto. La domanda è, noi continuiamo a dire che il problema è il lavorativo in Campania. Allora queste cose ce le dobbiamo dire in faccia. Perché quando ci siamo trovati un problema dell'inva, quando ci troviamo il problema dell'italzite, noi abbiamo la migliore medicina del lavoro, abbiamo la migliore epidemiologia d'Italia. Tutta questa agenda non viene dai partiti di destra. Non viene. Sono tutti... La migliore medicina del lavoro che ha creato le migliori leggi del lavoro. Noi teniamo le migliori leggi a tutela del lavoro. In Italia, in Europa, siamo stati riconosciuti. La stessa legge del divieto di fumo, la 626 ha fatto scuola, la 8108 ha fatto scuola. Il problema è uno. Non le applichiamo. E perché non le applichiamo? Perché quando qualcuno fa queste cose prima, è bravo. A volte mi ricorda anche la CGL. Quando non ci sta al potere qualcuno, è il miglior sindacato che esiste al mondo. Poi, quando però si fa al potere, non esiste nulla di peggio, nulla di peggio che non voleva vedere. Perché a quel punto io preferisco affrontare come ho affrontato il meglio delinquente che però quando è messo spalle a muro, il controllo lo fa, l'impianto me lo mette a norma. Adesso io qua tengo una cosa carissima, che è tutto il problema dei rifiuti. Com'è possibile che non lo si vede, non lo si vede nella sua realtà. E poi io passo pure, ci stanno quelle delle reti commons e quello favorevole piccoli inceneritori. Allora noi, per il problema dei rifiuti, parliamo sempre del quinto del problema. Io sono medico e siamo igienisti. Noi siamo a medicina democratica, quindi la maggior parte si tratta di medicina del lavoro e di medicina di Genes. Tra di voi c'è il nostro collega che è morto, che noi li piangiamo, Bolognini, che è stato uno dei più grandi veramente medici dell'Iste, oltre che di medicina democratica. Va bene? Allora il problema è che uno deve dire cose come stanno. E poi dopo fa ragionare le persone. Noi non l'abbiamo fatto. Noi non lo vogliamo vedere. Quando si parla dei rifiuti, lo vogliamo dire che da 20 anni, sono 30 anni in più, che il problema dei rifiuti si è spostato da quello urbano a quello industriale, quale è che ci decidiamo a dirlo? Allora, il problema dei rifiuti è che per quattro quinti di industriale e per un quinto urbano. Questo è l'esempio. L'amianto è un rifiuto non urbano. E l'amianto è un rifiuto tossico. E l'amianto io non lo posso discipulare al rifiuto zero delle lago. Per togliere l'amianto o faccio una discarica per rifiuto speciale, non ho alternativi, o mi faccio l'impianto per rinientizzare. Ci siamo. Come lo sfruttiamo in questo momento? In questo momento l'Italia, dato ufficiale, piglia 400 mila tonnellate l'anno di amianto, dei 32 milioni stimati che sono stati prodotti e sono distribuiti del territorio. E mentre noi italiani, noi campani, siamo collannati per l'eccesso di discariche urbane e per l'eccesso di discariche industriali, sapete dove va? Teoricamente. Teoricamente. In Germania. Perché la Germania tiene, e li paghiamo profumatamente, discariche per i fiori tossici per l'amianto e dei famosi discariche per le ceneri tossiche dei famose brisce e della famosa cesta. Fermo restando che giusto ieri, quindi ieri, il Tg3 ha cominciato a favore, a lo vanno e ceneri di aceto, veramente. Allora, il problema è che quando io ho rifiuti industriali, devo dire che mi servono in piante, devo dire quant'è e come devo tracciare e smaltire i rifiuti industriali. Il problema è il rifiuto urbano, sia per l'entità che per le dimensioni, è un quinto del problema. Vogliamo fare rifiuti in zero? Facciamo rifiuti in zero. Sotto il problema degli industriali. Non è difficile. E non è un caso, e non è un caso che Federato stia in Veneto. Io ho fatto la mia tesi, che adesso lo esendo, che dico le stesse cose di Fortini, perché utilizzando il sistema che ha fatto Palluzzi, cioè di benchmarking competitivo per stabilire quali sono i gold standard della sanità, io ho fatto, ho applicato, e com'è che non si è fatto fino a ora? È una cosa così banale. Lo stesso sistema di benchmarking competitivo per i rifiuti facendo riferimento alla capacità di urbano alle regioni cosiddette virtuose, Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia. Toscana dove c'è il capannone, Veneto dove ci sta a vedere l'arco, con una differenza che nessuno ha fatto mai fino a ora. E questa è la domanda, com'è che noi medici, nessuno si è ricordato che il problema è per i quattro guind industriali, è un guind urbano, quindi io quando faccio il benchmarking, l'accia fa tutto? Perché non è che il problema non si pone anche in una città, e il problema è in una città come questa, sapete come si pone di più? Perché il problema è che io tengo la più grande fabbrica da sempre, sono 50 anni che teniamo la più grande fabbrica a Napoli del mondo, di pelletterie, scarpe e borse mondiali, ma il regime diva sono fiscale. Cioè noi siamo una città in cui c'è una fabbrica la più grande del mondo, distribuita, moltiplicata per scandinavi, per cose, dove in nero si produce una quantità di scarpe e di borse false, che sono false, solo e esclusivamente quando le acchiappa la finanza, perché quelle scarpe e quelle borse, come ha mostrato l'Aport, sono le scarpe delle borse originali, vere, che si vengono a comprare qua, poi ci mettono il macchio quando non le acchiappa la finanza, e qua ha fatto vedere l'Aport, vengono vendute a 25 euro a borsa, e poi fuori vengono vendute a 4,5 anni, ma per ogni chilo di borsa, voi quando vedete questa, adesso io ho fatto pure questo studio, voi dovete immaginare, mo' che vedete il bancarello, il corso in coppe e marciapiede eccetera, per ogni chilo di borsa che vedete, voi dovete immaginare che c'è mezzo chilo, mezzo chilo di solventi, collanti, coloranti, pellavi, questo è terra dei fuochi, per questo anche quando è venuto badduzzi, terra di fuochi, fatica, noi fatichiamo tutti i giorni, non ci possiamo fermare, mi pare che la gente si può fermare quando manca il lavoro, è il lavoro nero, noi fatichiamo tutti i giorni, dove va sta roba? E questo è il problema dei rifiuti di Napoli, che si mente dicendo che è urbano, e poi in realtà è il vero problema della costante sovrapposizione dei flussi industriali e urbani, che poi lo fa scrivere al comune di Napoli, perché qua è stato presentato, mi dai quel libro, l'altro giorno, è stato presentato da Cortini, da Isai, questa è la tesi, quel libro, un bellissimo volume, che costa troppo, non ve lo posso perché accattava, costa 40 euro, è stato presentato un altro libro, bellissimo, fatto molto bene, attenzione non è fatto da Berlusconi, qua ci stanno tutti i intellettuali di sinistra, che hanno fatto questo, più la di Asia, che in questo momento quindi è un pezzo del comune di Napoli, il quale dice le stesse cose che dico io, sui rifiuti speciali, perché il vero problema di questa città è di tutta Italia, sui rifiuti industriali, però la conclusione condivisa da tutti i magistrati, tutti, qua dentro c'è il cantone, quindi attenzione, pure tutti i magistrati non mi pare che sono di destra, a me che dice ci serve l'ingegneritore, è chiaro? Allora io ho fatto l'ingegneritore, no, però finché tu non analizzi con l'onestà, e ti spiego, allora io sono un analista, io sono per i tutti i segni, sono il medico dell'ambito, io sono un medico, no, 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 io sono un medico e questo è il mio compito, questo è il mio compito da igienista e sto facendo il medico, si chiama medico-igienista ed è quello che non è stato fatto fino a ora, esistono quattro tipi di discariche, perché se fa una soluzione, io sono contro l'ingegneritore, sono per i rifiuti zero, dico che è certo, certamente lo dico come persone, ma se voi non ragionate in questi termini e non si fa il discorso serio sui rifiuti industriali e sulle comparazioni, ci massacrano, allora io come analista, io come analista, io faccio il medico, è proprio il che faccio il medico, è proprio il che faccio l'economista sanitario, le mie opinioni quando analizzo vengono dopo, io faccio un'analista, in questo momento e come analista, io ti dico perché ho raffrontato tutti i sistemi che esistono in Campania, in Italia, per i rifiuti industriali e per i rifiuti urbani e quindi che cosa attesto e lo posso scrivere io e quindi posso fermare l'ingegneritore che se parliamo di rifiuti urbani, la Campania è abbondantemente coperta con rifiuti urbani, noi inceneriamo già adesso 100 kg l'anno e poiché inceneriamo col piano proposto, arriviamo incenerire 374 kg l'anno, quando la Lombardia, pro capita abitante, incenerisce 270, ci pigliano per il culo, ci pigliano per il culo, noi non abbiamo bisogno di inceneritori, meno che meno Napoli, dove adesso mi avete dato il volume di Medicina Democratica, dove all'interno c'è la relazione della mia collega Isde Gentilini che parla di Forlì, quindi in Medicina Democratica c'è il bellissimo articolo della mia collega Gentilini, a cui io ho insegnato come fare il monitoraggio della diossina all'inceneritore di Montalto, che dimostra che a Forlì l'inceneritore fa male, ma lo vogliamo dire che l'inceneritore di Forlì è un decimo di acera? E che praticamente gli rifiuti, gli inceneritori dell'Emilia Romagna, gli inceneritori dell'Emilia Romagna sono nove e noi con uno solo ne facciamo due terzi e quando Forlì in questo libro e il cantone ripete, ma perché la Toscana ne ha sette d'inceneritore e la campagna è solo uno? Lo vogliamo dire perché io sono un analista? Che gli otto, perché non sono neanche sette, sono otto, secondo me gli iscritti della Toscana, gli inceneritori della Toscana hanno una portata di 400.000 tonnellate complessive, quando solo accedono e lo fa se scende? Allora qual è il problema della campagna? È di tutta Italia, ma della campagna di più e questo lo dobbiamo dire, perché io non ho discariche per nessun tipo di rifiuto industriale, siamo l'unica regione, siamo già, visto che siamo così, arrabbiati, ebbene che bisogna eroggiare la campagna, andiamo ad eroggiare la campagna, siamo l'unica regione, rifiuti zero industriali, tu lo sai? Allora perché non lo diciamo? Allora se noi lo sappiamo da dieci anni, perché la gente non lo sa? Allora bisogna puntare, noi in questo momento per comprendere le cose e soprattutto per risolvere il problema dei rifiuti urbani, dobbiamo affrontare e risolvere la tracciabilità e la necessità di inquadrare il corretto smaltimento dei rifiuti industriali speciali e tossici, che sono i quattro punti del problema. In questo momento, nella situazione attuale e nell'assenza di impianti, nella qualità di medico dell'Iste e nella qualità di consulente del Comune, io ho detto una sola cosa, l'unica cosa che il Budimmo fa, in questo momento sono due, mandare i rifiuti fuori, perché non abbiamo impianti e non abbiamo nessuna possibilità di tracciare, di tracciare la mancata sovrapposizione degli industriali sugli urbani, finché io non traccio quello, non posso fare i rifiuti zero, perché il cinese mi ha avuto un cuore all'urbano, tutto quello che fa è ordinariamente il regime di avversione fiscale, quindi l'unica cosa che il Budimmo fa è che il Comune è attaccato in questo momento su questo, ma quello che invece io, dopo aver creduto come tutti, che effettivamente era una strunzata, andando ad analizzare la situazione attuale di carenza di impianti, io dico che in questo momento l'unica salvezza è mandare fuori per fare che cosa? Per togliere il rifiuto urbano, cioè la scenografia del rifiuto industriale e infatti noi adesso a questo punto abbiamo permesso di far vedere che c'è un problema di rifiuti industriale, altrimenti se continuavamo a mischiare i rifiuti non si vedeva il problema. Quindi lei in effetti consiglia di mandare fuori? Temporaneamente, finché non facciamo gli impianti, adesso la mia tesi dimostra, e su questo siamo tranquillamente in linea, che quello che manca qua sono i compostaggi, cioè quello che manca a noi sono i compostaggi, è certo, ma questo lo si deve dire in maniera scientifica, andando ad accettare un confronto anche tecnico su chi, come gli altri, vuole praticamente fare un discorso di ciclo integrato dei rifiuti, perché dici che va? Io lo accetto questo confronto, perché non conviene a loro. Se io faccio solo un discorso, io posso fare Vede Lago, Vede Lago lo può fare perché ha 68 discarici per i rifiuti netti, che sono i nostri, quindi i loro rifiuti industriali, li hanno tolti da mezzo, i tossici li mandano a noi e possono fare i rifiuti zero, la stessa cosa è Capannoni, Capannoni in Toscana è quello che ci hanno mandato più rifiuti tossici a noi, loro possono fare i rifiuti zero perché noi teniamo i loro rifiuti tossici e tanto a Peccioli c'è una discarica urbana, sostanzialmente analoga alle nostre discariche urbane, va bene perché noi siamo come discariche urbane messi a posto, soltanto che il problema è che i nostri discarici urbani sono stati tutti riempiti da rifiuti tossici che non dovevano stare là, allora a Peccioli ci fanno il concetto, mentre a noi il nostro Raffaele del Giudice ha dovuto fare il lancio dell'occhio e del peccolato industriale, allora questo è il punto, noi dobbiamo confrontare industriali e urbani, chiarirci le necessità di impianti e separarli finché non li separiamo noi siamo la regione che è condannata, noi siamo condannati a morire di rifiuti, è certo, è ovvio, ringraziamo il dottor Martella